Ed ora cambiamo argomento, andiamo ad aprilia, torniamo a parlare dell'incendio della freddindustria, un disastro ambientale annunciato perché già tre anni fa l'Osservatorio Nazionale Amianto tramite il suo presidente, l'avvocato Ezio Bonanni, aveva segnalato la presenza di Amianto e il pericolo per la popolazione. Sentiamolo. A nostro modo di vedere, al di là delle dichiarazioni testuali di un riferimento al disastro ambientale, dobbiamo dire che questo incendio rivela la fragilità e la pericolosità nel territorio, di avere dei siti ex industrie, in questo caso freddindustria, che sono all'interno delle città. Noi non possiamo avere queste caseggiate pericolanti all'interno delle città e ricolmi di immondizie. Infatti nel 2020, come legale di alcuni cittadini di Aprilia, avevo depositato un'istanza alla Procura della Repubblica perché fosse attenzionato questo rischio e almeno si togliessero i rifiuti o le altre situazioni di rischio. Per fortuna i danni, anche se consistenti, non sono stati del tutto irreparabili, proprio perché con molta probabilità l'Amianto era stato rimosso precedentemente o comunque non pare che si possa essere diffuso in maniera oltremodo allarmante. Ma non c'è solo l'Amianto, ci sono tanti altri cancerogeni dannosi per la salute, dannosi per l'aria, l'acqua e il suolo, quel denso fumo nero che si vedeva a distanza di chilometri e che ha contaminato l'aria e che è poi ricaduto sul suolo. Tant'è che lo stesso sindaco ha accolto la nostra tesi di lavare bene ciò che viene prodotto nei dintorni, dimostra che c'è una situazione di allarme, di allarme giusto e la necessità di sapere che cosa è bruciato in quello stabilimento. E auspichiamo che ci sia un maggiore controllo del territorio da parte della Procura della Repubblica di Latina e delle forze dell'ordine affinché tutte quelle situazioni di sversamento di rifiuti, di presenza di rifiuti pericolosi, di smaltimento illegale di rifiuti sia attenzionato e represso, ma anzi che siano bonificati questi siti.